Ciao, sono la zia, tutto bene la zia? No, 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 perché? No, no, perché sei messo a piangere? No, sono io la zia, sono io la zia, non devi piangere la zia, capito? No, io sono zia Carolina, va bene? Perché? Ma non piangere, oddio, una giocciata. Ragazzi, secondo me c'è stato qualche malindezza tra me e mio nipote, secondo me non si ricorda che sono la zia, ha fatto un muscillo enorme, non me l'aspettavo perché quello di solito i bimbi fanno a impazzire per me. Mi sta guardando. La zia, la zia, io sono Carolina, la zia Carolina, come scusa, mi vuole presentare, si è messa a piangere la zia, e già però perché fai così? Non me l'aspettavo, mi dice, mi aspettavo che stia fatica, ma posso venire a salutare? Non posso venire a salutarti? No, non mi vuoi vedere, talmente che sono brutto, sono brutto assai perché io sono una bella donna, mi hai fatto prendere la colla, non mi hai guardato in faccia come se fosse una mostra, io non so una mostra, tua zia ti stai facendo con l'ostruzzo in mezzo. Facciamo così, io ti parlo, ti faccio ridere all'improvviso, facciamo così, ok ragazzi sta per la via. Allora io si provo piano piano, si provo con calma, siamo vicino però per stare lontanissimo, lui sta là. E Affele, sto venendo Affele, tutto bene? Sì? Non mi guardare con questa faccina così, non sono tanto carina, ma caca proprio, non mi caca proprio. Affele, se vengo vicino a te mi piangi, vengo vicino a te, piano piano. Ecco qua. Sì? Siamo a me e te, ecco qua. Bene? Mi vuoi toccare i capelli? Sì, su tre mesi mi faccio uscire la panetta. E prego i capelli. Ma schifate per me mi conoscero. Sì, anzi, per noi io si dobbiamo essere frati, tra me, frate, a te, capisco? Un po' di confidenza, senza piangere, senza amici paura, mi dò? e già che non c'è una cosa, mi ha fatto basti da gigante un bacino, un bacino a me niente prato? però prima di te metti a piangere e mi fatti prendere i colli mi metti proprio giusto che con me hanno ingegnato solo che hai ammazzato con me e tu c'è un bacino senza ammazzata io non lo so, oggi se non hanno femmine come me io ho visto Maddalena ho visto a me, non ho visto una signora rispetto a quella di là e mi fanno riguardo, lo fanno tutti poi quando io ci faccio i miei conti guardate, mi resta a parlare che ci fanno una cazzata esagerata stai facendo la pappina, stai facendo adesso vuoi che ti dà mangiare zia Carolina? ti posso dare da mangiare io? sì! sì! quindi ma tu tenessero pochi antipatici versi di me siamo belli a stare un'altra ma se fossero pochi antipatici siamo belli, solo come fatti 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 con la trira è fatti e che resta cosa? mi fatti prendi la colla ma tu mi guardi con questa faccia come stai dicendo che questo è troppo brutto ma non ti puoi mettere pronto pure se volessi parlare e volessi dicendo una cosa del genere non ti puoi mettere pronto che tu mi guardi così con questa aria capito? non sono buoni mi prendi i capelli in mano come vieni? con un po' che vuoi extravergine d'oliva capendo te? più capendo te oggi, oggi si può dipatico, dipatico, dipatico oggi eh? tutti la verità appena fuori 8 anni poveri non ti faccio niente come regalo poi vedi? ah ah io pago me una toglia eh? io perché già sei pensato ma tu non apprendi io pago me una toglia sulle regalate un belustito tre anni stagliamie stai facendo un bel io pago me dai non c'è ma fai un c*****o ma che lei mi addorava stagliamie ma che ti stai a riuscire 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 mi distriste qualcosa non quello a me mi sono trovata tua nipota no tua nipota ragazzi non apprezzi il mio bene la prima volta che siamo incontrati è stato da essere tutto base braccio amore ma via di me hai mantenuto il sangue ho fatto un strassetto vai anzi io appare ho soff Senior t'ho cominciato tutti i capelli fia âzì prendi anzi prendi anzi prendi anzì bella di così mi piace bella bella così guardate che è un sangue mi aveva riconosciuto inizialmente allora stai salutiamo tutti quanti insieme allora ciao amici a tutti quanti ci vediamo nel prossimo video quando invece di piangere rido va bene ciao penso che vi devo salutare perché alla prossima vi faccio vedere qualche cosa che faccio con mio nipote mio nipote sta prendendo un po' di convidenza abbiamo bisogno di un po' di tempo eh quando sembra uno faccio i cazzo però si mi sta